Appuntamento a Siena sabato 7 maggio per la quinta edizione del premio BLS di Angel. 18 cittadini premiati per aver contribuito a salvare vite umane in Toscana attraverso l'utilizzo del defibrillatore. Sabato 7 e domenica 8 maggio si terrà a Torrita di Siena l'ottava edizione del Borgo dei Libri, nata per valorizzare i libri e la lettura, in programma incontri, conversazioni e spettacoli. Presentato mercoledì 27 aprile a Palazzo del Pegaso, il volume Un mondo aperto per una buona politica, a cura di Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corzini. Composto alla luce dell'enciclica papale Fratelli Tutti, tema centrale del volume è l'arte di governare non dimenticando la fratellanza tra i popoli. Mercoledì 27 aprile si è tenuta nella sala del gonfalone a Palazzo del Pegaso la conferenza stampa per presentare la quinta edizione del premio BLS di Angel, un riconoscimento ideato dall'Associazione Siena Cuore o DV per premiare soccorritori laici che con la loro prontezza e formazione sono intervenuti nell'anno precedente su tutto il territorio regionale, salvando vite umane grazie all'utilizzo del defibrillatore. 18 cittadini che verranno premiati a Siena il 7 maggio e 8 i enti e le associazioni che hanno ottenuto una menzione speciale. È un modo per dire grazie alle tante donne e ai tanti uomini non specializzati che però si sono voluti formare per aiutare a salvare vite umane. Io ricordo purtroppo un'esperienza vissuta da un amico, era a nuotare in una palestra, in una piscina e fortunatamente c'era un defibrillatore e fortunatamente c'era un addetto lì dell'impianto che era in grado di saperlo utilizzare. Ha avuto un infarto e è stato proprio grazie all'aiuto del defibrillatore e della capacità da parte dell'operatore di sapere intervenire se oggi è ancora insieme a noi. Lo stesso abbiamo fatto qui in Consiglio regionale, ci sono 22 tra i nostri dipendenti che sono in grado di riuscire a svolgere questo compito delicato pur non essendo esperti del settore. Io penso che investire in questo campo sia importante, è il messaggio che oggi vogliamo mandare anche di qui, anche dal Consiglio regionale. Ringrazio il Presidente Scaramelli per avermi coinvolto e proprio questo, prevenzione, formazione, soccorso. E credo che su questo si giochi anche una fetta della Toscana di domani. È un'iniziativa allodevole che cresce, cresce a livello regionale, partita da Siena, dal cuore di Siena, un'iniziativa che, appunto, in riferimento al cuore, può salvare la vita delle persone. Un utilizzo consapevole dei defibrillatori, di un'esperienza associativa che oggi premia tutti coloro che a livello toscano si sono distinti per un gesto di solidarietà, un gesto di amore verso gli altri, un gesto che può salvare la vita a tante persone. È bello presentare in regione un'iniziativa che ormai è cresciuta, sta diventando importante e dà una spinta a tutti noi per fare meglio, per crescere. Ricordo l'iniziativa legislativa che io guidai in Toscana, prima regione in Italia, rispetto all'obbligo di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore, è allo studio una proposta di legge che presenteremo in settimana prossima, nell'ambito della quale renderemo obbligatorio, se verrà accolta, questa ipotesi in tutti i luoghi pubblici dove la regione toscana è presente nei territori. Quindi da un'iniziativa di volontariato, un'esperienza dove le persone possono dare il contributo, ma dove le istituzioni, in primis la regione, deve dare il primo esempio e mi auguro che questa proposta poi venga accolta quanto prima. La nostra associazione sei anni fa ha avuto questa idea, proprio nell'ambito della propria attività, che è quella di informare i cittadini della nostra realtà sull'importanza dell'intervento rapido durante l'arresto cardiaco e utilizzare quando è possibile il defibrillatore. Da lì è nata un po' l'idea anche di premiare in qualche modo chi, nello specifico quei cittadini che normalmente non si occupano di sanità, ma che in caso di necessità si sono dedicati e si sono prodigati a tentare di salvare la vita ad un altro cittadino colpito da arresto cardiaco, magari utilizzando anche il defibrillatore. Da lì la nostra attività, anche supportata in particolare dal vicepresidente Scaramelli che ha sempre creduto in questa iniziativa, ci ha portato ad avere questo premio a livello regionale, che quest'anno vede anche un altro importante traguardo, che è quello di essere riusciti a raggiungere 18 cittadini toscani che si sono prodigati appunto nel salvare la vita ad altri cittadini e 8 menzioni speciali che sono l'altra parte del premio che va in qualche maniera a ringraziare quegli enti, quelle associazioni, le scuole in particolare che si sono dedicate e hanno preso come spunto la nostra attività formando altri ragazzi e altre persone della scuola. Valorizzare i libri e la lettura Valorizzare i libri e la lettura, questo l'obiettivo dell'ottava edizione del Borgo dei Libri che si terrà a Torrita di Siena sabato 7 e domenico 8 maggio. La mostra presentata mercoledì 27 aprile in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso darà ampio spazio nel centro storico della cittadina a case editrici, librai antiquari, collezionisti e autori. Si tratta di un progetto del comune di Torrita organizzato dall'associazione Rizes in collaborazione con la Proloco. Oggi viviamo questo evento nel segno di quella che deve essere la Toscana. Arte, bellezza, cultura si tengono insieme. Solo così è possibile continuare ad essere quello che siamo. La Toscana è una terra che per prima ha abolito la pena di morte per la sua capacità di saper anticipare anche i temi culturali più di frontiera. E oggi ritrovarci in un borgo molto bello, vissuto da ragazze e ragazzi, perché è davvero bello sapere che sono coinvolte tutte le scuole. Ognuno si sente protagonista di questo evento. Diceva Umberto Eco, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. Sta qui. In tutto questo il segno e il senso di questa iniziativa. Ringrazio il sindaco Giacomo Grazi per aver scelto, insieme alla collega Elena Rosignoli, di presentarlo in Consiglio regionale. Noi vogliamo che ogni giorno di più questo luogo sia un luogo in cui far conoscere le bellezze del nostro territorio e lanciare messaggi positivi. Ecco, leggere è qualcosa di profondamente importante perché ci rende tutti più liberi. È un messaggio forte in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Questo è un evento che è nato nel 2015 nel comune di Torreta di Siena e ha avuto un successo partecipativo non solo di persone ma anche di librerie, di collezionisti di libri antichi che espongono nelle mostre che vengono fatte durante l'evento ed anche di appassionati. Quest'anno torna in presenza dopo due anni di chiusura che era comunque stato fatto in versione online per quanto si potesse fare con questi mezzi. Però ecco, l'importanza della carta, del libro, è già stato detto che si convolgono molto le scuole ma non solo. È un evento che cerca di educare gli studenti, i ragazzi alla lettura ed anche a formarsi un'opinione perché quello che poi avviene leggendo in autonomia i libri avviene la scoperta dei propri gusti letterali, delle proprie opinioni. Insomma, ci cerca di dare un contributo importante anche nella formazione dei cittadini di domani. Insomma, cittadini si spera consapevoli e soprattutto capaci di pensare e di crearsi un proprio pensiero. 7-8 maggio, un fine settimana all'ottava edizione del Borgo dei Libri, a Torita di Siena, nel nostro bel centro storico medievale. Ci saranno eventi culturali, presentazioni di libri e vari concorsi letterari per ragazzi più o meno grandi. Quindi si va dalle medie elementari fino alle superiori e siamo contenti di ritornare finalmente in presenza. L'ottavo anno, che è anche l'ottavo anno in cui io sono sindaco, quindi è un evento inventato dalla mia vecchia giunta e è portato avanti da quella nuova e dopo due anni purtroppo di edizioni online abbiamo fatto la nuova edizione ovviamente tornando alle vecchie e alle origini. Con la guerra in Ucraina, nel cuore dell'Europa e a poche centinaia di chilometri dal nostro paese, valori come fratellanza, verità e giustizia devono essere una bussola per orientare le scelte. Ne è convinto il presidente del Consiglio regionale della Toscana che mercoledì 27 aprile in Sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso ha presentato il volume curato da Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corzini Un mondo aperto per una buona politica sulla lettera enciclica Fratelli Tutti. È un libro davvero molto attuale, è stato scritto un po' di mesi fa, dopo ad un anno di distanza da un'enciclica che davvero è un punto di riferimento per tanti, anche per i non credenti e credo che essere qui oggi insieme a sua eminenza il Cardinal Betori, essere insieme all'imamma di Firenze e agli autori è qualcosa di importante perché attraverso quel messaggio, che è un messaggio forte che interroga la politica, la interroga fino in fondo nel capire come si fa ad essere fratelli tutti in un tempo in cui la guerra crea distanze, crea disuguaglianze, nel momento in cui si vedono donne e bambini scappare dalla propria terra e tanti voltano la faccia dall'altra parte. Noi abbiamo avuto in queste settimane la capacità di accogliere ma non basta, bisogna avere la capacità di includere, bisogna chiedere che questa drammatica guerra termini il più rapidamente possibile perché il cuore di ogni uomo e di ogni donna è lacerato da quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa e il messaggio che arriva è un messaggio così potente e attuale che mi sono sentito subito di accogliere la presentazione di questo libro e di avere un momento di confronto che tocca le nostre coscienze e che ci porta però anche un po' di speranza e di ottimismo verso un futuro che ad oggi sembra cupò. Ma una politica basata sul dialogo, sulla coesione sociale e soprattutto attraverso quel principio di fraternità che non deve essere interpretato come un principio ascrivibile ad un credo religioso solamente ma è il fondamento della comunione a livello sociale. La comunità a livello sociale ha bisogno appunto di dialogo, di costruzione e poi devo dire, nemmeno prevedendo evidentemente quello che poi sarebbe accaduto con la guerra in Ucraina il titolo dato che prende in buona parte quando riportata la lettera in ciclica Fratelli Tutti un mondo aperto sta appunto a significare la possibilità, si lascia passare questa espressione di una globalizzazione in positivo di valori, di principi e di una condivisione perché siamo tutti collegati e nessuno si può ritenere di salvarsi senza che si salvi anche l'altro anzi salvare l'altro significa salvare se stesso. Oggi un attuale è il discorso sulla guerra naturalmente, il Papa dice che nel tempo delle bombe nucleari non c'è più guerra giusta e quindi è molto da riflettere, c'è il tema della fraternità, c'è il tema di occuparsi degli altri, secondo me ci sono delle impostazioni su cui dobbiamo riflettere anche politicamente perché sono molto sollecitatrici, per esempio il Papa dice rispetto alla triade libertà, uguaglianza, fraternità, che naturalmente va mantenuta a un punto fermo, però gerarchizzare in modo diverso, la prima e più importante è la fraternità perché la fraternità fa sì che la libertà non scada in egoismo individualistico e l'uguaglianza non scada in omogeneità che appiattisce tutto, dal punto di vista della riflessione culturale e politica è molto significativo, ci sollecita, come ho detto molto, e poi il tema della pace, la costruzione di un mondo in cui le armi non facciano distruzione, non uccidano innocenti, non si aggredisca come sta avvenendo in Ucraina e si costruisca una convivenza positiva. L'enciclica va a quelli che sono i fondamenti dell'etica cristiana, che sono poi i fondamenti dell'etica razionale e appunto attraverso questa relazione tra l'aspetto rivelativo del pensiero cristiano e l'aspetto della razionalità umana estende i principi etici oltre i confini della semplice adesione di fede verso una proposta che diventa di carattere sociale verso il mondo. Ne abbiamo bisogno particolarmente in questi nostri tempi, sia da un punto di vista culturale, il Papa sottolinea spesso questa idea di un'epoca che cambia, cioè non un cambiamento dentro un'epoca ma un cambiamento di epoca e quindi bisogna arrivare ben attrezzati a quello che è un futuro che ci porterà sempre nuovi problemi, sia poi in questi giorni di fronte a questa tragedia della guerra verso la quale non possiamo che reclamare le ragioni appunto della fraternità umana e della pace.